Nonostante la digestione della trippa in corso, ho ancora quel poco di energia e difficilità per dire venire tutti da Sbrodovino, domani sera tra i Santi e i Morti, proprio a mezzanotte in punto sarà il club della serata, Motozappa Revival, menu enogastronomico, scaletta enogastronomica, menu leggerino, molto fresco, molto estivo, tutto di maiale, dall'antipasto al dolce, e anche da bere, forse una cosa liquida, un sanguinaccio, intervenire numerosi, Stefano Salimbeni, CNN